Oggi in Edicola, Rassegna Stampa Buongiorno amici di Icaro TV, bentornati a un nuovo appuntamento come ogni mattina con la nostra Rassegna Stampa per scoprire notizie, approfondimenti e aggiornamenti sui quotidiani locali di oggi, mercoledì 4 settembre Allora andiamo subito sulle pagine del Corriere di Romagna e del resto del Carlino Apriamo con le prime pagine, con il Corriere di Romagna che torna a parlare del delitto di Pierina Paganelli a Rimini Al setaccio i dispositivi elettronici di Luis da Silva, si cercano possibili messaggi cancellati da computer e cellulari Al centro sicurezza, un'altra estate nera, parliamo di Miramare, Miramare nel degrado e dopo andremo nel dettaglio In taglio basso parliamo invece dell'aeroporto Fellini di Rimini Il Fellini spicca il volo, numeri in crescita, passeggeri aumentati di oltre il 14% rispetto al 2023 Di spalla parliamo di Bellare e Gea Marina, centro antimafia, ci cerca una sede A Riccione lo spazio Tondelli invece pronto nella 2025, quindi importanti aggiornamenti sulle infrastrutture Di spalla invece si parla di sport con il calcio, il Rimini che ha completato un nuovo acquisto Quello di Piccoli che completa il centrocampo del Rimini, rilancio di RBR invece Gerald Robinson ha un passo Ovviamente all'interno andremo nei dettagli In taglio alto lei in vacanza, la mamma morta in casa La signora pare fosse deceduta da tempo, la figlia non avrebbe fornito chiarimenti Parliamo di una signora, una madre anziana, 92 anni, trovata sabato senza vita nella sua casa di Arezzo La morte sulla base dei primi riscontri risalirebbe addirittura a 4-6 mesi fa La figlia sessantenne irreperibile con il telefonino staccato Andiamo subito a vedere la prima pagina anche del resto del Carlino Con l'edizione di Rimini che apre allo stesso modo con il caso Pierina Nuova perizia sui cellulari di Luiz A caso Pierina la procura vuole verificare gli spostamenti attraverso foto e chat dell'indagato per omicidio Al centro la grande foto di apertura Peschereccio affondato, paura al porto Accaduto lunedì, l'imbarcazione era in disuso Viene comunque scongiorato l'inquinamento Poi andremo nei dettagli di spalla Lo vedete la notizia che abbiamo detto poc'anzi Morta da 4 mesi, la figlia sparita, trovata in albergo a Miramare Allora andiamo e torniamo sul Corriere di Romagna E andiamo ad approfondire l'edizione di oggi Mercoledì 4 settembre Con la cronaca Si apre in primo piano pagina 2 Con però un altro omicidio L'omicidio di Civitella di Romagna Alibi smentiti, indizi e sangue Tutto porta a Daniele Silvestri Parliamo del delitto del 22 giugno 2022 Il corpo di Franco Severi, 53 anni Viene trovato, decapitato tra i rovi nel podere di casseggio di Civitella di Romagna Dove viveva, la testa addirittura non è mai stata ritrovata Qui ci sono tutte le tappe del delitto La ricostruzione dell'omicidio, dice il pezzo di Gavino Cao Di Franco Severi, 53 anni Contenuta nelle motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo Che la Corte di Assisi di Forlì ha emesso a carico di Daniele Severi Ritenuto in primo grado colpevole per il delitto del fratello Scoperto il 22 giugno del 2022 Quando venne trovato il cadavere decapitato dell'agricoltore Dunque una vicenda di cronaca Che ha allo stesso modo del caso Pierina I suoi snodi con il quale apre il Corriere di Romagna Andiamo però nella nostra provincia e nella nostra città Rimini Il giallo di via del Ciclamino Come dicevamo, analisi su pc e cellulari di Luis Per cercare i messaggi cancellati La procura ha disposto indagini informatiche Sui dispositivi di città digitali in uso Al 34 anni senegalese che lo ricorderete era stato arrestato lo scorso 16 luglio Ora in carcere con l'accusa di essere l'assassino di Pierina Di spalla si ripercorrono le tappe del delitto Pierina Paganelli, 78 anni, rientra il 3 ottobre del 2023 Verso le 22 dalla Sala del Regno E viene uccisa dopo aver parcheggiato l'auto in garage Emerge che la vittima è stata raggiunta da 17 coltellate Numero che poi salirà a 29 e invece poi il 16 luglio Vado a scorrere l'arresto di Luis Da Silva Nel pezzo di Anna De Martino L'attacco alla procura della Repubblica di Rimini Conferirà nuovi incarichi per consulenze tecniche sui due telefoni Quattro orologi digitali e i due computer portatili di Luis Da Silva Il 34enne in carcere dal 16 luglio Per l'omicidio di Pierina Paganelli La nomina avverrà il 9 settembre prossimo Ovviamente i legali di Da Silva Gli avvocati Fabri e Guidi Tenteranno di far cadere le esigenze cautelari Quindi se i presupposti per cui il GIP Cantarini Ha disposto la misura cautelare in carcere Dovessero venire meno Il 34enne potrebbe essere scarcerato E quindi una nuova tappa In un caso che è ormai celebre Da quasi un anno, dieci mesi Qui a Rimini con nuovi controlli e indagini della procura Naturalmente monitoreremo tutto Abbiamo aperto anche con la notizia della madre 92enne trovata morta in casa d'aresto La figlia era da mesi in hotel a Rimini La donna alla polizia si è giustificata Con parole poco lucide Addirittura pensavo di averle già fatto il funerale Ci sono degli interrogativi nel pezzo di Anna De Martino È partita per le vacanze Lasciando la madre deceduta a casa Si è chiusa la porta alle spalle Mentre il cadavere della mamma giaceva già nel letto È questo il tragico e terribile interrogativo Ancora senza risposta Che in queste ore circola Tra gli investigatori di Arezzo e di Rimini Chiamati a spiegare un evento davvero senza senso Figlia di 60 anni, madre di 92 Morta sabato mattina nella casa dove le due Trovata morta sabato mattina nella casa Dove le due vivevano ad Arezzo in via Montanara La donna impiegata in una dieta di confezione di Arezzo Avrebbe scelto Rimini perché legata alla riviera In quanto da oltre 30 anni era la meta preferita Per le vacanze insieme all'ex marito Questo il collegamento tra Arezzo e Rimini La 60enne però spiega la polizia Risultava da subito irreperibile Aveva il telefono staccato dagli accertamenti Risulta aver soggiornato durante le prime settimane di agosto In una struttura alberghiera della riviera Romagnola Dovremo dunque monitorare anche questo caso Per tutti i dettagli che arriveranno Restiamo, cambiamo decisamente l'argomento Però restiamo a Rimini Miramare senza pace Un'altra estate nera E ora è ancora peggio Comitati e operatori turistici Ribadiscono ancora ciò che denunciano da anni Problemi di sicurezza Spacciatori, furti, bivacchi Le forze dell'ordine non si vedono Ne parla Adriano Crespi Nell'edizione di oggi 4 settembre del Corriere di Romagna Fenomeni di degrado Tra risse senza tetto Che dormono sui marciapidi Dei viali delle regine E ubriachi molesti C'è la denuncia di Gianluca Mitali Presidente del Comitato Turistico di Miramare Quella appena trascorsa È stata un'altra stagione a forte rischio Per l'incolumità pubblica Adesso la situazione è peggiorata Vi dico solo che tra luglio e agosto Solo io avrò denunciato alla polizia Almeno 4 furti con spaccato Forzatura delle porte d'ingresso Del mio ristorante sulla spiaggia Ci sono anche le parole Del proprietario di un noto locale Di viale Regina Margherita Rivazzurra Basterebbe poco Sarebbe sufficiente Avere un paio di pattuglie Delle forze dell'ordine Con i lampeggianti accesi Fermi all'inizio e alla fine del viale Oppure in continuo movimento Per risolvere la questione Per allontanare chi vuole delinquere Mai successo Come diceva Gianluca Metalli Di questi 4 furti così in poco tempo Sono 20 anni che faccio questo lavoro E invece le parole del proprietario Del locale di viale Regina Margherita Rivazzurra Venite qui qualche sera Toccherete con mano Quello che vi raccontiamo Si lamentano anche i proprietari Dei bazar cittadini bengalesi Finiti nel mirino di questa gente Che li deruba e spesso bivacca Proprio davanti al loro negozio Sempre per quanto riguarda i quartieri La viabilità e i progetti La riqualificazione Questo invece è una buona notizia San Giuliano si tinge di verde e blu Banchine Boulevard e Parco del Mare Ne abbiamo parlato anche sul nostro sito Il progetto Atus prevede la qualificazione La riqualificazione dell'area Tra i ponti di Tiberio e della Resistenza Sull'arenile dune a protezione Dall'ingressione marina Percorsi ciclopedonali Spazi a uso sportivo e ludico Sono progetti che verranno anche Qui c'è il pezzo di Vanessa Zagaglia Alla 22esima Verranno illustrati alla 22esima festa De Borg ci sarà spazio dunque anche per Atus Rimini di verde e di blu Questo si chiama il progetto Cofinanziato per l'80% Con risorse europee E qui vediamo appunto Torna la festa De Borg 100 anni di Rimini a son di musica e ballo Parliamo del weekend imminente Dal 6 all'8 settembre Con l'assessore alla cultura Michele Lari Che commenta una rinascita Dopo la pausa forzata imposta dal covid Per fortuna la società De Borg Non ha mai smesso di credere che si sarebbe partiti Tantissima musica Cibo Potete trovare il nostro servizio Sul nostro sito newsarimini.it E nelle edizioni del telegiornale Che avete visto e che vedrete anche oggi Taka Bilotz 22esima edizione Più di 10 punti di musica Una squadra di 200 volontari Che prepareranno da mangiare in 7 stand Oltre 60 artisti in soli 3 giorni E ritorniamo insomma all'apertura principale Qui verranno anche illustrati I progetti appunto del Borgo San Giuliano Perché sarà al centro ovviamente della festa Di Atus Andiamo avanti e parliamo di turismo Perché vi abbiamo già raccontato Abbiamo monitorato già la situazione Dei passeggeri in transito In arrivo in partenza Dallo scalo aeroportuale Fellini di Rimini Ebbene il Fellini vola Passeggeri in crescita Più 14% sul 2023 Ai Rimini Numa 2014 Dice tasso di riempimento Dell'87,2% Tirana e Cagliari Le top destination Seguite da Palermo Andiamo nel dettaglio del pezzo Di Adriano Crespi Con un più 14,3% rispetto al 2023 Ma in calo rispetto al 2019 Calo del 16,6 51.376 viaggiatori Registrati in agosto Un incremento del 7,5% rispetto a un anno fa 152 voli hanno volato Con un tasso di riempimento pari al 91% Però i dati del 2024 Con agosto 2019 Sono differenti Perché nell'agosto 2019 I passeggeri furono di più 68.688 Calo del 27% Dirato fumo nero e fiamme Nella fallina e merita Della Papa Giovanni Questa è un'altra notizia importante Il pezzo di Erika Nanni I vigili del fuoco Sono stati impegnati diverse ore Con due squadre Due autobotti Per riuscire a domare Il vasto rogo È stato distrutto il laboratorio Allarme è arrivato poco prima delle 17 Nessuna persona ovviamente coinvolta Per fortuna Ancora riqualificazioni Spazi e ambienti Spazio Tondelli Qui siamo a Riccione Ultimo miglio Pronto nell'autunno del 2025 L'assessore Imola Fa il punto sullo stato dei lavori Iniziati nel 2021 Fra stop e ritardi A breve affidamento dell'ultimo stralcio L'obiettivo è la prossima stagione Grazie alla 27esima edizione Del Riccione TTV Festival Il teatro cittadino Ancora in ristrutturazione Sarà eccezionalmente aperto Per l'occasione Si tratterà di una incursione Come aveva già spiegato Simone Brusca Il direttore di Riccione Teatro Che svelerà appunto Lo stato dei lavori Qui nella foto Vedrete la facciata di Spazio Tondelli Continuano dunque I lavori importanti Di ristrutturazione Andiamo in Cattolica Valconca Con l'assessore Vicisindaco Belluzzi Che replica Movimento 5 Stelle E Lega Non rimetterò la delega Alla sindaca Contro di me Attacchi per screditarmi Sono il capo rispiatorio Della opposizione Insomma qui ci sono le parole Di Belluzzi Non ha nessuna detenzione Di rimettere alla sindaca Franca Foronchi La delega Per l'assessorato al turismo Risponde con fermezza Dalle opposizioni Che lo accusano Di irresponsabilità Difendendo gli operatori Che hanno investito Nella qualità Della struttura Professionalità Servizi Personale Marketing Il resto sono chiacchiere Il Comune non può riempire Le strutture Di chi non è in grado Di lavorare O chi vive di rendita Non avendo investito Un euro da anni Puntando solo sul prezzo Andiamo a Bellaria Valmarecchia Dicevamo del centro Provinciale antimafia Si cerca una sede Per il progetto E la scelta Potrebbe ricadere Sugli spazi Dell'ex sportello Iatta Il sindaco Una prassi virtuosa Sarà aperto A Bellaria E Giamarina Lo sportello Per le vittime Di reati Mafiosi Gli obiettivi Del progetto Ervis Emilia Romagna Victim Support Come chiariscono I referenti Tendono verso La realizzazione Di una rete Diffusa E omogenea Di servizi Come la creazione Di uno o più Sportelli Informativi Dall'accesso Libero E nella foto L'immobile Di via Baldini A Igea Che è stato La confisca È stata revocata Dal tribunale Quindi si cerca Uno spazio Per questo sportello Nella zona Di Bellaria Valmarecchia Con Bellaria Capofila Di un tema Importante Valle del Rubicone Uomini violenti Due arresti In 24 ore A Savignano Fermato uno stalker Di 43 anni A Gambettone Invece un ventenne Ha aggredito i familiari Due I casi Il primo A Savignano Vittima una donna Che aveva recentemente Presentato denuncia Contro l'ex compagno Veniva invece Da Gambettola La richiesta di aiuto Che ha portato All'arresto di un giovane Di circa 20 anni All'apice di una serie Di maltrattamenti Aveva aggredito fisicamente Sia la madre Che il fratello Che sono stati medicati Per lesioni Giudicati guaribili In 5 giorni Andiamo Allo sport Perché ci sarà Il doppio appuntamento Gran premio della Riviera di Rimini E Gran premio dell'Emilia Romagna Questo weekend E nel weekend Del 21-22 settembre Per il Misano World Circuit E allora Misano è pronta A raccogliere la sfida Del Mugello L'anno scorso Il Gran premio in terra di Romagna Totalizzò più spettatori Ma stavolta Doveva tornare ai numeri Dell'era Rossi Fabio Benaglia Punta insomma Sul dualismo Buono Tra Mugello E Misano World Circuit Nel 2023 141.000 presenze Contro le 135.000 Del Mugello Che però nel 2024 Al Gran premio Alla Mugello E' salito Le presenze Sono salite A quota 156.000 Ovviamente Ci saranno tantissimi eventi Ne parleremo anche tra poco Sull'edizione del Carlino I numeri che portano Alla vigilia del Gran premio Di San Marino E della Riviera di Rimini Sono interessanti Dovrebbe battersi Il numero però Di spettatori dell'anno scorso E per quanto riguarda La parte commerciale Non c'è più Uno spazio libero da tempo A corollario Del Gran premio Quindi Un mese di settembre Importantissimo Per Il Misano World Circuit Prima di andare in pausa Una notizia di calcio Perché ovviamente Il Rimini E' protagonista Anche delle pagine Sportive Rimini Rimini che ha pareggiato Con il Carpi E' perso in casa Con Lentella Nelle prime due giornate Di Serie C Piccoli ha scelto Rimini Per mettersi alla prova Ufficializzato ieri Contratto fino al 30 giugno 2026 Maglia numero 21 Per il classe 2001 Bergamasco d'origine Bergamasco d'origine Mancino 178 cm di altezza Centrocampista capace di unire qualità e quantità Piccoli sono un centrocampista d'utile Dice appunto che unisce qualità e quantità Volevo provare una nuova esperienza Lontano da casa Per Rimini Pescara Intanto Programma sabato alle 20.45 Lo stadionieri Già partita la Prevendita Arbitrerà Vergaro Con lui il Rimini Non ha mai vinto un solo precedente Però anche con il Pescara In occasione dell'1-1 Con la Fermana Nel dicembre 2023 Ci fermiamo Per la nostra Rassegna Stampa Torniamo tra poco Perché proseguiremo Con le pagine Dell'edizione locale Del resto del Carlino A tra poco Oggi in Edicola Rassegna Stampa Oggi in Edicola Rassegna Stampa Di nuovo buongiorno amici di Icaro TV Seconda parte della nostra Rassegna Stampa Di oggi Mercoledì 4 settembre Visto il Corriere di Romagna Come vedete Andiamo sulle pagine Del resto del Carlino L'edizione locale Di Rimini Che apre Sempre con il caso Pierina Nuova perizia Sui cellulari di Luis Caso Pierina La procura vuole verificare Gli spostamenti Attraverso foto E chat Dell'indagato Per omicidio Luis Da Silva Morta da 4 mesi La figlia sparita Trovata in albergo Miramare E peschereccio Affondato Come abbiamo visto prima Nella prima pagina La grande foto di apertura Lunedì Paura al porto L'imbarcazione Era in disuso Scongiurato L'inquinamento Andiamo allora A snocciolare I temi Negli interni Della redizione locale Del resto del Carlino Le chat Nascoste Ai raggi X Pronte Nuove analisi Sui cellulari Di da Silva Lunedì La procura Darà l'incarico Di setacciare Nuovamente i dispositivi Di Luis Si cercano Messaggi cancellati E la ricostruzione Dei suoi spostamenti Mentre le indagini scientifiche Che restituiscono risultati Come il tampone negativo Nelle parti intime di Pierina Gli investigatori Guardano già oltre Dispongono Una nuova accurata Ricerca di foto Video Navigazione internet Eventi di sistema Chat Intrattenute Sulle app di messaggistica E qualunque altro dato Anche del cloud Per procedere al recupero Delle credenziali Dei dispositivi stessi Di quei messaggi Che sono stati cancellati Ad esempio Quelli interscambiati Tra l'indagato Con la loro amante Emanuela Bianchi Questo è uno stralcio Del pezzo di Francesco Zuppiroli Sul resto del carlino Nel box Ci fermiamo Perché c'è Allarme spaccio In città Tre pusher In manette In un giorno Sono finiti In manette Due albanesi Di 39 e 22 anni Trovati in possesso Di cocaina Un tunisino di 23 Con dell'ashish In particolare Due arresti Della polizia locale Si sono verificati In zona del lungomare Di Marina Centro Come detto Anche il resto del carlino Riporta la notizia Della anziana Mummificata in casa Si indaga per abbandono Figlia ritrovata In un hotel Era in un tre stelle Di Miramare La sessantenne Ricercata dalla polizia La sessantenne A retina Sulle cui tracce Si trovava la squadra Mobile di Rimini Su richiesta dei colleghi D'Arezzo La donna era Ricercata dalla squadra Mobile a seguito Del macabro ritrovamento Del 31 agosto scorso In via Montanara Quartiere di Saione Ad Arezzo Della madre 92enne della donna Carla Bazzani Il legale di Arezzo Pasquale Giuseppe Macri Ha fissato la morte Tra i 4 e i 6 mesi fa La figlia sessantenne Ritrovata in Riviera È stata per ora sentita Come persona informata Dei fatti Anche se da quanto Trappela La donna Non avrebbe ancora Chiarito certe dinamiche E punti oscuri Di questa controversa Vicenda Parliamo del peschereggio Affondato Nel porto Lunedì Era in disarmo Per essere demolito Via alle operazioni di recupero Parliamo del Genius Che ha iniziato A imbarcare acqua Sino ad inabissarsi Nella zona del molo A due passi Dall'Aiole Disposti nella notte Panni assorbenti Intorno allo scafo Per limitare La dispersione Di liquame Pochi minuti Insomma Si è inabissato In pochi minuti Quando lo scafo È andato completamente Sott'acqua Davanti a decine Di persone incredule È successo tutto Intorno alle 21 Di lunedì sera In via destra del porto All'altezza del bar Dall'Aiole Dove il peschiereccio Genio Si trovava ormai In disarmo Dell'accaduto È stato prontamente informato L'armatore originario di Fano Mentre è lo stesso comune A fare il punto Sulle conseguenze Dell'accaduto Accaduto che è arrivato Forse per una tavola Assaltata Che ha fatto cominciare A riempire in fretta Lo scafo del natante Fino a farlo inabissare Sino alla cabina Pieno d'acqua Sul posto Sono subito intervenuti I militari della guardia costiera Il cui comando centrale A pochi metri più avanti Dal punto Dell'inabissamento E i vigili del fuoco Andiamo avanti E parliamo di un altro Fatto di cronaca Incendio alla Papa Giovanni Distrutta la falegnameria E un impianto fotovoltaico A fuoco Il laboratorio della comunità Di recupero A Santa Quilina Le fiamme sono state Alimentate Da alcune Bombole di acetilene Esplose Di spalla Voglio anche Sottolineare Il caos Al pronto soccorso Più rispetto e sicurezza Per medici e infermieri Ci sono le parole Di Cristian Gianfreda Assessore alle politiche Per la salute Esprimo tutta la mia Solidarietà Alla famiglia Del pronto soccorso L'assessore ha ricordato Come durante la stagione estiva Il pronto soccorso Vedano impennata di ingressi Che arrivano anche a picchi Di 380 accessi Al giorno L'assessore ha partecipato Su richiesta dell'azienda All'incontro con il personale Medico infermieristico La direttrice del pronto soccorso Perina ha espresso Le difficoltà Di un ambito Sotto pressione Soprattutto nel periodo Estivo Andiamo a Riccione E parliamo di MotoGP La MotoGP mette il turbo Alle prenotazioni Alberghiere C'è tanto sport Oggi nelle edizioni Dei nostri quotidiani locali La febbre per i motori Contagia anche Riccione Montanari La città garantisca Un'offerta completa Ai turisti Le cose stanno andando bene Dice il presidente Di Federalberghi E penso che avremo Un fine settimana Con una percentuale Di occupazione Attorno all'80% Non è male In settembre Ci auguriamo Che il metodo Non faccia scherzi Perché in questo periodo Della stagione È fondamentale Fa la differenza Tra il 2015 E il 2019 Gli anni prima Della pandemia Gli spettatori Nella tre giorni Sono rimasti Variabili Tra i 150.000 E il record Di 159.000 Nel 2018 Ci sono anche Le parole Del presidente Di Federalberghi Di Misano Massimo Leardini Le attese sono queste Speriamo che il meteo Sia buono E non rovini Il fine settimana Stiamo parlando Del fine settimana Della Gran Premio Della Riviera Di Rimini Il San Marino Della Riviera Di Rimini Che arriverà Prima Poi Del Gran Premio Delle Miglia Romagna Due eventi Alla Misano World Circuit In questo mese Di settembre Per quanto riguarda Le due ruote Continua Massimo Leardini Gli stranieri Riescono ad allungare Il periodo di soggiorno Con più facilità E fanno Tre notti Ad accorciare Tutto esaurito Negli hotel E di spalla Nel box Ci sono gli eventi Come dicevo prima Si parte In Viale Ceccarini A Riccione Nel tratto compreso Tra Viale Dante E Viale Gramsci Si svolgerà domani sera La Red Bull Riders Night A partire dalle 20 Fino a mezzanotte Ruote all'insù Con impennate Devoluzioni Negli show Serali Tra le 22 E le 23 E 30 Ci sarà Anche la proiezione A Misano Monte Zona Campo Degli Ulivi Del docufilm SIC Rinviato Lunedì a casa Della Maltempo Dedicato a Simoncelli Il compianto Motociclista Scomparso Nel 2011 Da venerdì Si accenderà Nella zona Mare di Misano Invece L'Arena 58 Con il dedicato Evoluzioni Sfide Traversi Tra venerdì E sabato Quindi Molte evoluzioni Molto show Anche Ma non solo Musica E il ricordo Anche di Simoncelli Soltanto alcuni Degli eventi Che coprirà Il weekend Dedicato alle due ruote Andiamo anche A parlare Di una iniziativa Del comune E qui Torniamo Nelle cose Della città In 62 Sosta gratis Per le mamme In 62 Hanno ritirato Il pass È quello che Dà diritto Di parcheggiare Senza pagare Negli stalli Blu Nei primi Tre mesi Di attivazione Con le richieste Attivate dal 3 giugno Sono stati 62 I pass Ritirati Dalle donne Riccionesi Il permesso Rosa È dedicato Alle donne Residenti a Riccione In stato di gravidanza E con bambini Fino a 12 mesi D'età Validità massima Di 18 mesi È un'informazione Importante Può essere richiesto Dalla 14esima Settimana Di gestazione Fino al primo anno Di vita Del bambino Sempre sport Andiamo su Una polemica Per quanto riguarda L'assegnazione Del Nicoletti Lo stato di Riccione Stadio e veleni La società attacca Facciamo sport E non politica Borgognoni Presidente della Riccione 1926 Forti e Cesarini Non centrano Con il bando Per il Nicoletti Il pezzo Di Andrea Oliva Al presidente Non è piaciuto Che la società Sia finita Nel tritacarne Politico Con le civiche Di centrodestra A battezzare L'affare stadio Che è passato Al Riccione calcio Dal 1926 Da domenica Primo settembre Con il bando Per la sua gestione Legato all'aggiunta Al PD Essere tirati in ballo Dice Borgognoni Senza motivo E strumentalmente Nella polemica politica Ci infastidisce E di certo Non contribuisce Al clima generale Della città Il presidente Entra nel merito Del bando RT Rete temporanea Di impresa Guidata Dalla Riccione calcio Che ha partecipato Appunto al bando Dell'assegnazione Dello stadio Ma non vede presenti Né Filippo Forti Neppure Nostro dirigente Francesco Cesarini Quindi il presidente Della Riccione calcio Che ha cominciato Il campionato di promozione Respinge Le accuse Andiamo avanti E torniamo Sui fatti Di Cattolica Qui si riprende Come abbiamo visto prima La polemica di Belluzzi Io capro espiatorio Non mi dimento L'assessore al turismo Di Cattolica Il comune Non può riempire Le strutture Di chi non ha Lavorato bene Il pezzo di Luca Pizzagalli Sono sicuro Che in questa visione La stagione che si concluderà Darà segnali Importanti Perché il futuro E questo Viene premiata La qualità La professionalità Come è giusto Che sia Bellaria Ancora una questione stadio Questa volta Per liete notizie Conto alla rovescia Per i lavori Dello stadio Nanni Entro un mese Partirà l'intervento Per il manto sintetico Intanto la società Cambia rotta Il nuovo presidente Franco Varrella Che tra le altre cose È stato allenatore Della nazionale Di San Marino Riqualificazione Dello stadio Nanni Saranno rifatti Completamente Spogliatoi Impianto di illuminazione Manto erboso In sintetico Dice il sindaco Filippo Giorgetti I lavori di rifacimento Del manto erboso Partiranno tra fine settembre E il mese di ottobre Di seguito Si procederà Con l'efficientamento Energetico L'intervento Dovrebbe giungere Al termine Entro la fine Dell'anno Sant'Arcangelo Addio a Paola La ex moglie Di Guerra Quella volta Con Monica Vitti La Grotti Aveva 93 anni Il figlio Andrea Una donna eccezionale A Sant'Arcangelo Le volevano tutti bene Paola Grotti Prima moglie Del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra Venuto a mancare Nel 2012 Una morte improvvisa Il figlio Andrea Dice a casa nostra Sant'Arcangelo Come a Roma C'era sempre un via vai Di artisti Attori registri Anche dopo Registi Anche dopo La separazione da Tonino Mia madre ha continuato A ricevere visite E fare incontri speciali Chiunque l'ha conosciuta Anche negli ultimi anni Aveva ancora lo spirito Ricorda che aveva ancora Lo spirito indomito Di una ragazza Nonostante l'età Oggi camera ardente Domani i funerali Nella chiesa dei Cappuccini Cultura e spettacoli C'è una fiction Girata in Riviera Cristiana Capotton Di Ariccione Per la ragazza Dietro il banco Primo ciacchi Il 16 settembre Le riprese della serie TV Rai Sbarcheranno anche a Rimini Alcune scene Verranno girate Anche sulla spiaggia Del bagno 35 Protagonista della serie TV sarà Cristiana Capotondi Si chiamerà La ragazza Dietro il banco Arriverà in Viale Gramsci nel cuore Di Riccione Da quanto emerge La Capotondi Sarà una donna ricca Molle di un imprenditore Che di colpo Vede svanire Il proprio patrimonio E ovviamente Per lei la vita Cambierà Sarà questa serie TV Articolata In quattro puntate Andiamo a chiudere Con il calcio Rimini adesso al completo Piccoli si unisce Alla truppa di Boucher La mezzale Ex Albinoleffe Ha messo la firma Su un contratto Per questa E per la prossima stagione Originario di seriate Piccoli nel Bergamasco Ha messo la firma Sul contratto Che lo legherà Alla Rimini Questa è la prossima stagione Biennale Per il classe 2001 Cresciuto Nell'Albinoleffe Dove ha debutto In prima squadra Nel 2020 Rimanendo in tutte le stagioni Successive A mercato Definitivamente chiuso Ora i biancorossi Possono concentrarsi Esclusivamente Sul campionato E Rimini deve già Recuperare Dopo un pareggio E una sconfitta Siamo arrivati al termine Di questa rassegna stampa Di oggi Mercoledì 4 settembre Vi rimando Con l'appuntamento Per la rassegna Stampa nazionale Tra poco E poi il Tg Delle 8 e 30 Il nostro Icaro Tg Mattina E tutti gli approfondimenti E gli aggiornamenti Anche oggi Anche in questo Mercoledì 4 settembre Su Icaro TV Grazie per averci seguito E buona giornata Oggi in Edicola Rassegna stampa